Il terrestre e il suo cane mi hanno trovato dopo che un meteorite mi aveva fatto precipitare. La mia missione è raccogliere campioni di cibo per gli abitanti della galassia lontana che si nutrono solo di pillo. Il mio autopilota è rotto e per completare la missione ho bisogno di un equipaggio. Ora l'ho trovato. Buongiorno, grazie ai miei nuovi amici. Tornerò a casa. Armando, Armando, Armando. Prigioniero 1.0, sei stato condannato all'esilio dalla tua città. Poi sei stato condannato all'esilio dal tuo pianeta. Non rimane che esiliarti dalla galassia intera. Sei la creatura più pozzolente che questa corte abbia mai giudicato. Abbiamo aperto un portale casuale sull'universo. Ovunque andrai, non tornerai mai più nella galassia lontana. Non ti bastava aver cancellato la memoria di Vanessa? La mia missione è segreta, Guido. Stavamo bevendo un'aranciata e tu che fai? La congeli, di nuovo? Vanessa non si accorgerà di nulla. È tutto per questa! Potevamo prenderla direttamente dal cesto della prutta. Che ci sono tre principali tipologie di arance dolci. E poi c'è l'arancio amaro. Qui le abbiamo trovate tutte. Conosco 14 tipi di aranciate diverse. E si trovano tutte nel mio frigorifero. Le arance bionde, quelle rosse e quelle rosso scuro. Poco caloriche e molto vitaminiche. E se vuoi berne il succo, una spremuta è molto meglio di un'aranciata. Aspetta, l'aranciata non è tipo una spremuta gassata? La spremuta va consumata entro pochi minuti dalla spremitura. Prima che antiossidanti e vitamine perdano efficacia. È zuccherina e ottima dopo lo sport. Mia mamma vuole sempre che mangi l'arancia a fine pasto. Perché la polpa limita l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e dei carboidrati una volta raggiunto l'intestino. Con l'arancio amaro si fanno canditi e prodotti per la bellezza, invece. Ehi, dove ci troviamo, padrone? Lontano da casa, cartaccia. Ho dovuto installare la tua scheda madre in questo gradevole contenitore di cose puzzolenti. Oh, padrone, sono bellissimo! Ho completato lo scan del pianeta. Si chiama Terra. Che nome scontato? Ehi, ho trovato qualcosa! C'è tecnologia della galassia lontana! Cosa? Non ci posso credere! Pare che l'astronave sia un modello sperimentale armando Mark 1. Secondo il mio scanner, il pilota automatico è rotto. Ma potrei pilotarla io fino a casa, se fosse nostra. Peccato! Scemo di un bidone puzzolente. Che ti importa se non è nostra? La ruberemo! Steve! Ehi, smanettone! È qui la mia ragazza. Ma cos'è successo? Mi sento un po' infreddolita. Ehi, vane! Succo d'arancia, Steve! E tanto per chiarire, io non sono la tua ragazza. Di solito queste cose si decidono in due. No, sul serio. Tornerò in ragni e mi prenderò il vostro Armando. Armando, Armando, Armando! Armando! Campanile! Infrareddolita! powerpobevovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovoca. Grazie a tutti